È una guerra, perché vince e vincerà chi mollerà per primo. Nonostante l'errore non intenzionale del vice sindaco Paolo Polidori, il messaggio è ben chiaro. Nessun passo indietro nei confronti dei parcheggiatori abusivi. La polizia urbana da gennaio sanziona chi trasgredisce il regolamento sia dal punto di vista amministrativo che dal daspo urbano. Da qualche mese, aggiunge Polidori, abbiamo deciso di organizzare un presidio permanente sulle rive che sta portando ad un miglioramento della situazione, ma che purtroppo non riesce a contrastare una volta per tutte il fenomeno dei parcheggiatori abusivi nella nostra città. Loro in questo momento non stanno mollando. Allora, nelle previsioni che fosse una cosa di una settimana, di un periodo di settimana, di un mese, non è così. Ma lo sforzo lo stiamo facendo e lo si vede qua sulle rive, è un problema che in questo momento si può dire risolto nella misura in cui in questo momento non si vedono parcheggiatori. Quanto andrà avanti non lo so, però voglio dire, da parte nostra c'è la tenacia e la determinazione, da parte loro anche, ma noi ce l'avremo maggiore di loro.